salve eccoci qua eccoci qua a commentare una nuova sentenza questa volta andiamo sulla cassazione una cassazione a sezioni riunite che dirime una questione che è quella della giurisdizione relativa alla responsabilità di amministratori di società partecipate le cosiddette società in house è interessante perché appunto affronta il tema di del rapporto che c'è fra chi si trova a gestire una società partecipata e la corte dei conti quindi la responsabilità per danno era reale in sintesi cosa era successo la corte dei conti contestava ad alcuni amministratori di società partecipate società partecipate da una regione di aver mal gestito la società di aver creato dei buchi di aver prodotto dei danni la difesa si è difesa dicendo questa società è un soggetto esterno è diverso dalla regione non è un soggetto pubblico perché formalmente un soggetto privato quindi non c'è la giurisdizione della corte dei conti non c'è un danno erariale può esserci un danno patrimoniale sarà il giudice civile a stabilirlo ma non il giudice contabile vediamo che cosa dice la corte suprema di cassazione che torna a spiegare che cos'è un in house quindi è molto interessante perché oltre al caso specifico chiarisce quali sono i profili delle società in house e i rapporti con gli amministratori anche alla luce del testo unico delle partecipate la sentenza la numero 26 mila 738 pubblicata il primo ottobre 2021 è un'ordinanza scusate non una sentenza l'ordinanza della procura relativa all'impugnativa contro la procura regionale della corte dei conti della regione piemonte vediamo allora i fatti è stato chiesto il risarcimento di un danno prodotto appunto a questa società relativamente a irregolarità nella gestione delle liquidità della società in particolare la gestione non autorizzata di un conto corrente per 5 milioni 950 mila euro quindi capite bene il mondo delle società partecipate come mai è difficile da regolamentare da parte delle della pubblica amministrazione da parte del legislatore perché ahimè ci ruotano ancora moltissimi moltissimi interessi in particolare in questo caso la procura ha segnalato come la fin piemonte società in house della regione piemonte costituita per gestire eh alcune attività rilevanti sul mercato ehm a seguito della indizione di una gara per l'allocazione dei fondi una banca diciamo esterna a questa società si era giudicata un lotto di 50 milioni di euro depositati sul conto corrente che sono stati restituiti in ritardo alla scadenza del termine questa restituzione ritardata di 50 milioni di euro capite che dà luogo a interessi significativi nel corso del rapporto sono sorte difficoltà perché perché è emerso che a fianco del conto base questo conto da 50 milioni di euro erano stati costituiti tre sottoconti sui quali erano stati effettuati dei bonifici in favore di soggetti estranei all'attività di fin piemonte e la procura della corte dei conti tramite le indagini della guardia di finanza ha evidenziato come questi conti poi alla fine erano finiti a società legate agli amministratori ok questa è la accusa ciò nonostante i vertici della società non hanno assunto alcuna iniziativa a tutela del patrimonio sociale fino al momento in cui sostituito il presidente il nuovo presidente ha diffidato la banca restituire i soldi la banca ovviamente è intervenuta restituendo i soldi dei sottoconti ma chiedendo i relativi interessi tali circostanze sono state denunciate dal nuovo presidente e qui vi apro una parentesi l'importanza che esiste nella pubblica amministrazione del principio di rotazione perché serve la rotazione perché come in questo caso arriva un nuovo presidente prende le carte e valuta la rotazione fondamentale nelle logiche anticorruzione e nelle logiche di corretta organizzazione della pubblica amministrazione anche se può creare dei disagi organizzativi è alla base presidio di legalità tale circostanze sono state denunciate alla banca d'italia la quale ha fatto una verifica ispettiva aprendo un procedimento sanzionatorio nei nei confronti dei vertici della società nonché alla procura della repubblica che ha avviato un'indagine preliminare ha chiesto rinviaggiudizio questa è la parte penale il procuratore regionale ha ritenuto indiscutibile la responsabilità di questi soggetti nell'ambito di un rapporto che pur avendo ad oggetto la gestione di ingentissime risorse pubbliche 50 milioni di euro è stato caratterizzato da pochissime comunicazioni scritte e continue riunioni e decisioni verbali anche questo un tema fondamentale spesso nella pubblica amministrazione si fa la telefonata si preferisce fare la riunione invece di formalizzare la tracciabilità delle operazioni che vale dal procedimento minuscolo del valore di 16 euro di marca da bollo a casi di questo genere ovviamente richiede la forma richiede la tracciabilità questa è una contestazione forse è un aggravante diciamo di questa situazione quindi attenzione tracciabilità forma sono anche questi alla base della trasparenza amministrativa vedete quanti concetti si diciamo imparano anche da queste vicende allora la decisione della cassazione a sostegno della domanda quindi qui è la ricorrente la persona che sta che ha subito il procedimento giurisdizionale contabile e che contesta la qualificazione della fin piemonte come società in house perché cosa dice dice per essere un in house occorre che ci siano alcuni requisiti in particolare la totale proprietà pubblica della società la fin piemonte è partecipata dal 99,85 per cento dal dalla regione e dalle restanti quote da altri enti pubblici quindi la prima obiezione non è totalmente della regione gli manca lo 0,15 per cento a tal fine non assume rilievo soltanto l'entità della partecipazione occorrendo che non sia preclusa alle singole autorità la possibilità di partecipare al controllo della società come accade nel caso in cui il socio di maggioranza sia in grado di porre le proprie scelte allora l'altra tesi difensiva è ammesso che il 99,85 per cento sia comunque un controllo totalitario di fatto la regione non esercita un controllo analogo a quello dei propri uffici perché la fin piemonte è sufficientemente autonoma perché laddove c'è un controllo analogo non c'è alcun spazio ci sono diciamo c'è la possibilità di esercitare i poteri mentre nel caso concreto dice la difesa non c'è alcun spazio di controllo ai soggetti pubblici diversi dalla regione quindi mentre la regione un po può controllare gli altri enti non controllano e quindi manca il controllo analogo congiunto inoltre sempre tesi difensiva dovrebbe ritenersi insussistente il controllo analogo non spettando all'assemblea dei soci alcuna competenza gestoria sulle materie rilevanti in quanto i soci pubblici non hanno sufficienti poteri extra assembleari quindi possono votare col 99 per cento dei voti in assemblea ma fuori dall'assemblea non ci sono patti parasociali che consentono di fare il controllo questa le gli elementi essenziali della tesi difensiva tant'è dice la difesa che le decisioni di aprire il conto da 50 milioni aprire i sottoconti distrarre le somme eccetera eccetera sono state prese dai vertici della fin Piemonte senza coinvolgere la regione pertanto il danno prodotto alla società non ha natura erariale quindi non si nega che ci sia un danno è evidente ma non è un danno arrecato alla regione è un danno arrecato alla fin Piemonte quindi sia la società a farmi causa non la corte dei conti a chiedermelo in virtù del controllo diciamo su su le risorse pubbliche e qui inizia l'operazione della cassazione vi svelo già il finale di smontaggio della tesi difensiva perché dice in tema di società partecipazione pubblica le sezioni riunite hanno da tempo enunciato il principio per cui la giurisdizione sull'azione di responsabilità quella della corte dei conti nei confronti degli organi sociali per i danni arrecati al patrimonio della società spetta la corte dei conti se esistono tre presupposti primo il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici e qui ci siamo cento per cento di proprietà degli enti pubblici la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e anche qui lo statuto prevede che la società faccia attività per gli enti partecipanti la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici vi sottolineo la parola per statuto perché e ora lo vediamo nel dettaglio la tesi della cassazione è non si va a guardare di fatto cosa viene esercitato cioè sarebbe paradossale ritenere che non c'è il controllo analogo e non c'è la responsabilità contabile per il fatto che gli amministratori violando la legge si sono resi indipendenti dalla regione è proprio qui l'errore cioè il fatto di essersi resi indipendenti aver nascosto alla regione queste operazioni è proprio l'elemento di violazione e non può essere portato a testimonianza che non esiste un controllo analogo il controllo analogo è per tabulas come si può dire sulla carta se lo statuto prevede che la regione possa controllare la società questo rende la società un in house perché esiste astrattamente il controllo analogo anche se in concreto non viene esercitato o perché la regione è inerte non lo esercita o perché i vertici societari si sottraggono a questo controllo quindi vedete il terzo punto quello fondamentale su cui ruota tutta la sentenza della cassazione tali principi enunciati dalle sezioni unite sono stati recepiti nel testo unico delle partecipate decreto legislativo 175 2016 articolo 12 che nel disciplinare la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione delle partecipate dice sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società capitali di società di capitali salva la giurisdizione della corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dei dipendenti delle società in house quindi se esiste l'in house esiste la corte dei conti se mancano questi tre elementi non esiste la giurisdizione della corte dei conti la definizione del controllo analogo del controllo congiunto è nell'articolo 2 quindi si ha controllo analogo anche se ci sono più soggetti pubblici purché complessivamente sia garantito il controllo diciamo in forma analoga a quella dei propri uffici sulla società andiamo avanti ciò che la ecco questo è il passaggio fondamentale ciò che la ricorrente contesta è la sottoposizione della società al controllo analogo dei soci pubblici non avrà desumibile a suo avviso né dallo statuto sociale che non attribuisce né alla regione né agli enti partecipanti poteri diversi rispetto a quelli dei soci né dalle concrete modalità di svolgimento della vicenda tali modalità risultano peraltro assolutamente irrilevanti si prescinde dalla ricorrenza in fatto dei predetti requisiti dovendo essere condotto esclusivamente sulla base delle norme dello statuto quindi il controllo analogo è un controllo astratto preventivo teorico non di fatto se di fatto nella fattispecie la debito che viene mosso alla ricorrente e al presidente della società consiste proprio nell'aver gestito i fondi assegnati dalle regioni in piena autonomia cioè questa autonomia è proprio l'illecito che si contesta quindi non può essere portata a giustificazione dell'assenza di un controllo analogo e andiamo quindi alla fine diciamo di questa vicenda appare indubitabile che la gestione della finpiemonte è assoggettata a una forma di controllo non diversa nella sostanza da nella sostanza e nella forma da quella che la regione esercita nei confronti dei propri servizi in quanto idonea incidere per la sua ampiezza e intensità non solo sull'individuazione degli obiettivi delle imprese e sulla programmazione dell'attività ma anche sulla determinazione e sull'osservanza delle regole di gestione assegnata alla società nonché attraverso le convenzioni stipulate con gli enti partecipanti nessun rilievo può assumere la circostanza che la società abbia ottenuto l'iscrizione negli intermediari finanziari autorizzati che la rende autonoma ma solo ai fini di quell'attività diciamo commerciale parimenti infondata è la tesi della difesa secondo cui trattandosi di partecipata non solo dalla regione ma da una priorità di enti pubblici il controllo del socio di maggioranza non potrebbe considerarsi sufficiente perché la giurisprudenza ha elaborato il concetto di controllo analogo e congiunto quindi in definitiva nella specie l'esiguità della partecipazione degli enti pubblici diversi dalla regione che rivestono la qualità di socio all'epoca della commissione del fatto non consente di escludere la configurabilità di un controllo congiunto è proprio sulla base della disciplina della convenzione che appunto si determina la competenza della corte dei conti che ha riconosciuto appunto la propria giurisdizione anche in relazione ecco scusatemi questo è un altro passaggio importante la tesi difensiva è smentita anche dal fatto che le sezioni unite della corte dei conti effettuano il controllo sul conto economico consolidato di questa società controllo diciamo indiscusso da sempre esercitato quindi il fatto che esiste il controllo sul conto economico della società rende ovviamente questa società ancor più eh convintamente facente parte delle società in house la configurabilità di una società a partecipazione pubblica come in house comporta il superamento della distinzione fra le sfere giuridiche e patrimoniali proprie e quelle della regione di appartenenza per cui la mala gestio degli amministratori o dei dipendenti determina un danno erariale perché non danneggio solo la società ma indirettamente danneggio la regione e quindi si radica la giurisdizione della corte dei conti in conclusione viene affermata l'aspettanza alla corte dei conti della giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento del danno eriale proposta dalla procura della regione piemonte e quindi determina la relativa giurisdizione quindi conferma poi eh indirettamente la sentenza bene io eh vi ringrazio eh vi saluto vi metto nei commenti il link per poter visualizzare la sentenza e i relativi approfondimenti e ci vediamo alla prossima occasione di formazione. Arrivederci, a presto!